Eccolo qua, sono tutto per voi. Buonsoir, non potete davvero immaginare, signore e signori, quanto io sia felice di essere qui. La vostra grande partecipazione mi riempie di gioia. Avete fatto un buon viaggio? Fatto il bagnetto? Se piove, shh, non ce l'è più bisogno. Beh, almeno potete stare vicini in intimità. Lo sapevate che il 60% delle coppie pratica un sesso miracoloso? Sto parlando sul serio, è così. Lunedì sarebbe un miracolo, martedì un miracolo, mercoledì la conosci già, eh? Non mentire, te lo leggo in faccia. In ogni caso, queste sono cose che non ci riguardano, lo vedo che voi siete diversi. Ne sono assolutamente certo. Sì, perché noi ci aggrappiamo ancora all'amore, per il quale l'Italia è così famosa. Amici, viva l'amore! Vai, avanti tutto Mario, si parte! Viva l'amore! 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 Viva l'amore!